Ciao, guarda chi c'è! Sotto tortura. Sotto tortura è tutto rosso, si vergogna. Ma quello è il vino di prima prova. Ma quello è il vino? Da cape morti. Vabbè, comunque adesso gli faccio vedere le foto. No, dov'è l'inquadratura? Di qua. Gli faccio vedere adesso le foto, non le ha ancora viste, e poi torniamo con il risultato. Non accetto suggerimenti da nessuno. Non gliel'ho mai fatto vedere. Guarda, sono stata onestissima. Ciao. Eccoci qui. Non c'è ancora la fine lista. No, ancora no. Ne ho scelto tre creazioni fantastiche. Arnò, tutte fantastiche si può dire, bravi a tutte. Ne ho scelte tre, ma ho dei dubbi. Non riesco a dire sì a quello. Non so come mai. Ce ne sono tre in ballo. Di queste tre uscirà la vincitrice, perché uscirà. Però ci devo pensare ancora un pochino, perché sono veramente, veramente indeciso. Quindi, adesso, dopo questo video, adesso guardatevi queste tre finaliste, semi-finaliste, come si dice? Finaliste? Finaliste sono tre. Sono comunque sul podio queste tre. Ne rimarrà solo una. Quindi adesso scoprite quali sono queste tre. Comunque, bravi a tutte ancora. Complimenti. No, ragazze. Dopo vi spiego. Guardate le tre sul podio. A te la parola? Ah, il cretino. Dopo una lunga riflessione, posso dire che la vincitrice è... No, qual è la musica della Sosp... Qual è la musica della Sosp... Della Sosp... Della Sospans? Cos'è? Comunque, Cristina... Comunque, bravi. Bravi, bravi tutte. Brava, Cri. Ho dovuto spremere e tirare fuori con me. Sì, continuava, metteva nei preferiti le foto, le toglieva, le riguardava, le zoomava, guardate i dettagli. Con Francesca, come vi diceva, no, ma guarda... Sitta tu che tu lo dici. No, io non dicevo niente. Non dicevo proprio niente. Comunque adesso... Imparziale. Imparziale. Comunque adesso, la prima foto dopo questo spezzone di video sarà la creazione di Cristina, dopodiché ci saranno tutta la carellata di vostre foto, delle vostre creazioni, perché è giusto che vengano viste tutte. E vi facciamo un applauso a tutte. Batti le mani, Francesca. Non posso batterle mai. Batti le mani. Ah, che dico. E comunque, Cristina, scrivimi in privato. E bravi a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. 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 Ciao.